E' partito dalla giornata di ieri il potenziamento del sistema di emergenza sulla fascia costiera cilentana, una serie di potenziamenti mobili per l'emergenza sanitaria nella meridione della provincia di Salerno. Voglio adeguare le postazioni fisse alla richiesta maggiore, questo è valido soprattutto per quanto riguarda la costiera cilentana, dove ci sta un notevole flusso turistico, soprattutto non più un flusso solo stanziale ma anche un flusso che ha degli andamenti nell'ambito della settimana e degli andamenti anche di transito, soprattutto per quanto riguarda la zona nord, vale a dire Capaccio e Agropolo. Questo significa che d'estate le nostre postazioni devono aumentare e questo è stato ovviamente il punto di partenza per quanto riguarda il potenziamento estivo. Dove poi andarli a mettere è stato l'oggetto poi di una valutazione che è stata effettuata soprattutto tenendo presente i dati di attività, quindi lo storico e tenendo presente le distanze delle varie località costiere dalle postazioni presenti per tutto l'anno e soprattutto anche dai presidi ospedalieri, perché ovviamente questo significa che alcune zone come ad esempio Palinuro significa che ci sono tempi di percorrenza abbastanza lunghi affinché il paziente venga portato nell'ospedale, che può essere Valoc, che può essere Sapri, però comunque sia, sono sempre tempi abbastanza lunghi. Sulla base di queste considerazioni sono state fatte delle scelte che poi sostanzialmente non sono molto difforme dall'anno scorso perché le considerazioni sono grossomodo le stesse, ma da dire sono state messe due postazioni nuove da Ceroli e Marina di Camerota, complete in H24, quindi con medico e infermiere, autista, soccorritore, ambulanza, e poi sono state rafforzate le postazioni di Santa Maria di Castellabate e di Ascea, Santa Maria di Castellabate perché in effetti si trova in una zona nord dove dà una mano anche a tutto il territorio tra Castellabate e Agropoli e oltre a quello fino a Gacciaroli e Ascea perché in effetti serve anche di rafforzamento a tutta la fascia costiera che insiste tra Ascea e Casalverino. Si è preferito fare questo tipo di operazione perché costituendo una struttura centralizzata in un posto vale a dire a Castellabate e ad Ascea, questo consentiva anche l'afflusso di pazienti ai south e quindi possono garantire anche una serie di postazioni come la misurazione di pressione laddove il paziente non si sente bene perché questo non è che fa parte del ruolo istituzionale ma ci possono essere dei problemi di questo genere, controllo ad esempio della glicemia, valutazione dell'ossigeno del sangue, sono tutte piccole cose che possono essere svolte e questo si può realizzare solamente raddoppiando la postazione perché altrimenti la postazione dovrebbe servire esclusivamente per il servizio di emergenza, cioè praticamente uscire con l'ambulanza mentre facendo questa operazione si riesce a garantire in queste località che hanno un notevole incremento di popolazione nei mesi di giugno e agosto anche questo tipo di operatività. Devo ringraziare immediatamente il commissario, il dottor De Angelis, i due subcommissari quello sanitario, quello amministrativo, il dottor Di Munzi e il dottor Rosati, il nostro referente per l'altro sarebbero dei dottori di furi perché in effetti è stata questa una scelta che loro hanno condiviso sin dall'inizio ed è stata poi fortemente voluta per cui si è riusciti a partire nonostante poi alcune difficoltà operative che sono abbastanza evidenti perché ovviamente si tratta di fare nel periodo estivo personale medico-infermeristico che sia in grado di fare da supporto in un periodo in cui poi notoriamente si va in ferie e quindi ci sta a quest'altro tipo di situazione.